A parer mio si è trattata di una caduta candela e questo l'ho analizzato sulla base delle fotografie che io ho visionato e che mi sono state fornite dalla procura, dove si vede una sbeccatura su un parapetto del primo piano e quindi che spunta circa un metro rispetto agli altri parapetti. Così sarebbe precipitata Martina Rossi secondo la perizia dell'ingegner Marco Sartini, consulente della procura ed ascoltato in aula nel corso dell'ultima udienza del processo per la morte della studentessa avvenuta nell'agosto 2011 alle Baleari. A processo due giovani aretini accusati di morte come conseguenza di un altro reato. Per la pubblica accusa infatti la studentessa Ligure scivolò dal balcone cercando di scappare da un tentativo di stupro. Secondo la difesa dei due imputati Martina invece si sarebbe suicidata. È caduta come un sacco, dritta. Non ha fatto proiezione se non quel metro più avanti che è una proiezione minima. In aula anche il tossicologo Carlo Bottaro che invece si è occupato dell'analisi sui liquidi biologici della studentessa per cercare tracce di stupefacenti o alcolici. Sui campioni biologici non risulta presenza di campioni stupefacenti o di alcol. Chiamati a deporre anche il medico legale Marco Di Paolo e la genetista Isabella Spinetti che si sono invece occupati dell'autopsia. Sul corpo della giovane sono state infatti cercate tracce biologiche maschili ma nessun DNA è stato trovato. Il medico ha però spiegato che a causa di alcune infiltrazioni di acqua e fango il corpo era in pessime condizioni. Stiamo entrando però nella fase vera del processo di capire anche degli errori, a volte ritardi, diciamo così, di impostazioni, di ragionamenti che sono stati poi cancellati dal lavoro fatto in Italia. Di conseguenza da questa ostinazione con cui la legge sta cercando di ristabilire la verità. Grazie a tutti.